Diciamo che se noi avessimo avuto la capacità di sbagliare di meno nei momenti in cui ci siamo riavvicinati probabilmente la partita avrebbe detto un'altra cosa, però con i secconi ma non si vincono le partite. Purtroppo siamo stati un po' ingenui anche perché abbiamo speso moltissime energie per recuperare perché siamo sempre stati sotto. Allora all'inizio hanno avuto delle buone percentuali, noi siamo stati un po' meno precisi e quindi poi abbiamo sempre dovuto rincorrere e questo poi alla lunga un po' ha pesato anche se alla fine diciamo che l'ultima azione poteva essere un po' più fortunata. Cosa c'è che non va in questo Catanzaro? Io credo che innanzitutto adesso sarà innescata sicuramente una situazione un po' di non tranquillità perché comunque quando perdere due partite cioè giocare poi in casa con l'assilo di dover vincere perché comunque hai due partite in casa con due squadre che sono alla tua portata ovviamente manca un po' di tranquillità e poi ovviamente un po' di fortuna anche in determinate circostanze.